Siamo a... Ahahah! Ahahah! You drove the car to my foot, baby! Mi ha appena guidato il carretto sopra ai piedi. Be careful! Non c'è niente qua. You wanna stand? You're a flower in your pocket! Thank you, sweetie! Hold yourself! Caldissimo, fa caldissimo! Hey mamma! I'm gonna check right here! Difficile trovare un albero... Carino! Siamo nella foresta! Non c'è nulla! Ora c'è un altro posto dall'altra parte. Vai andiamo! Ciao! Fantastico! Abbiamo preso l'albero di Natale. Questo è qui. Bellissimo! Mi piace! Molto carino! Le luci andranno qui sopra. Vediamo vedere un po'. Le luci andranno qui, qui sul bordo. Poi le mettiamo in cima là, in cima là, là là. Poi andranno giù. Poi metteremo le luci qua. Laser qui, laser qui, laser qui, laser lì. Facciamo un casino. Ok, andiamo avanti. All right, do you want to show what are you going to put it on? Is it the angel? It's the angel. All right, you ready? Yeah. Ok! Come on, you can do it! Good job, mamma. Go, 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 go! Sorry, sorry. I mean, there you go. Good job, Emmy. That was hard. Oh! Clap your hands! Yay! Yay! Let me see your face! No we need a! Ora stiamo andando a prendere un po' di luci, un po' di luci in più, ho calcolato male Le misure, cintura ragazzi, sono con la macchina di Nicola, imbobinate un po', on dipo, andiamo a vedere un attimino, ci sono rimaste luci perché normalmente vanno veloci in questo periodo dopo il time skimming tutti fanno gli alberi, le luci, voliamo e poi torniamo a casa e incominciamo a buttare su un po' di luci ancora, ciao Luci, stelle di Natale, ancora di più, fantastico, un dipo, sei un amico Sono venuto a un dipo almeno quante volte, 50 negli ultimi due mesi, incredibile, ma ce l'abbiamo fatta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sabato e pomeriggio tardi e oggi, manca alcune cose ancora sopra, ma sembra che abbiamo fatto un buon lavoro Qua ci sono tre luci laser, uno, due, tre Quando è buio, accendo, quindi vi farò vedere com'è Sposto le macchine E poi magari faccio anche un bollettino col drone, perché no, andiamo avanti e poi non fa freddissimo, non fa freddissimo, ho visto tutti che mi dicevo 8 gradi, 8 gradi per la California sono veramente pochi, quindi oggi, adesso ci sono 15, 15 gradi, quindi oggi è stato caldo, allora è quindi bellissima giornata ancora, andiamo avanti Ciao Questo, questo punto di vista, bruttissima esperienza, in ogni modo, andiamo avanti Dopo due giorni, tre giorni, anzi quattro giorni, il calatrezio è arrivato, finalmente, e la portiamo dal meccanico, what's up? Ciao piccola, ti portiamo dal dottore, dai Fa un fumo incredibile Molto di smoke Quindi ora mettiamo la macchina sul carretto e via Non è molto più facile Non è il fine Molto di sottotitoli Il facile Chiesa Finale 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.